Benvenuti nella controrassegna stampa delle notizie meno diffuse dai media italiani allineati all'euroatlantismo. Questa frase la ripeto ogni volta all'inizio di ogni video rassegna perché molte persone, anche iscritti da tre anni a questo canale, come questo utente Mauro, che nel video di ieri nella sezione commenti scrive, ha scritto, per curiosità, ma gli ucraini prendono sempre botte senza mai darle? Questo tipo di messaggi fa capire quanto serva ripetere il senso di questi video, di questo canale, dare la prospettiva meno diffusa, un'informazione complementare a quella allineata. In questo caso europeista, ultraatlantista, ucrainista, i nomi si sprecano, andiamo avanti. Come da titolo, la contraerea russa ha abbattuto un caccia militare ucraino Sukhoi-27 nella zona, nella regione di Kharkov o Kharkiv, che dir si voglia, e hanno anche fermato, abbattuto, quattro missili del sistema americano HIMARS in mano agli ucraini, a riportarlo, il bollettino militare russo e non ucraino che troverete sul Corriere della Sera, su Rai News, eccetera. Il bollettino militare russo del generale, portavoce del Ministero della Difesa del Cremlino, Igor Konashenkov, il solito. Nella zona, nella cittadina, vicina a cittadina di Isium, è successo quanto riportato prima, cioè l'aver fermato i quattro missili del sistema HIMARS e l'abbattimento del Sukhoi-27, tutto in mano ucraina. Dieci piloti ucraini, cioè dieci, scusate, velivoli senza pilota umano ucraini, cioè droni, abbattuti tra la zona di Danies, Luhansk e Zaporizia, quindi nell'est e nel sud-est dell'Ucraina del 91. 50 soldati ucraini e due veicoli corazzati, distrutti a Kupiansk. Cinque squadre di sabotatori ucraini eliminati, neutralizzati, sempre nella solita, nella stessa cittadina, Kupiansk, nei dintorni, in questa zona dell'Ucraina. 60 squadre militari ucraini non sabotatori, invece, fermati, distrutti a Krasny, Liman, tutti questi nomi slavi che stanno a significare, che danno un po' l'idea anche di quanto il fronte di guerra sia enorme, vasto e vada quasi, non sempre, ovviamente i fronti caldi sono più circoscritti, però potremmo parlare di un semicerchio, di una tenaglia, che va dai confini russi, bielorussi, ucraini, fino giù a sud, nel Mar Nero, alla Crimea, tanto famosa anche a Odessa. Poi 80 soldati ucraini neutralizzati a Kherson, nell'Oblas, nella regione, sempre del sud dell'Ucraina del 91, e distrutto nella stessa città un deposito di munizioni. In Ucraina c'è anche un video che dimostrerebbe il fatto, questa è una fonte filorussa, in lingua ungherese, orosireg. Poi, sempre la stessa zona, nella stessa, lo stesso deposito di munizioni, appartiene alla 65esima brigata ucraina, brigata motorizzata, ci sono anche quindi dei particolari in più. Un nuovo mercenario volontario, per chi ci crede, inglese della Gran Bretagna, neutralizzato, ucciso, combattente, 52enne, cittadino inglese, nella legione internazionale, ucraina voluta da Zelensky lo scorso anno, il suo nome era Jay Morays, morto mercoledì, secondo quanto riportato anche dal Telegraph inglese, morto nell'ospedale di Kharkov per le ferite riportate nella battaglia in Donbass, probabilmente nella zona di Artyomovsk-Bakhmut. In precedenza, esperienze in Kosovo, in Costa d'Avorio, con la legione straniera francese, è il quinto cittadino britannico volontario, mercenario, morto in Ucraina dall'inizio di questa operazione militare, speciale il 24 febbraio 2022, questa data che segna una svolta storica soprattutto per l'Europa a livello militare e geopolitico. Washington starebbe costruendo, mettendo su una milizia, un esercito fatto di combattenti terroristi ex ISIS in Siria, l'accusa del ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, che si è incontrato al Cremlino con gli omologhi di Siria e Iran, proprio per andare a normalizzare, a stabilizzare la situazione della regione mesopotamica, medio orientale, dove c'è un'importante, rimane un'importante presenza americana, anche se gli Stati Uniti perdono terreno, anche a detta di esperti israeliani come Robert C. Castle. Dice Lavrov, l'obiettivo americano è destabilizzare, continuare a destabilizzare la zona per interessi nazionali. Ricordiamolo che Ancara e Damasco, quindi Turchia di Erdogan e la Siria di Assad, hanno cercato di far iniziare un processo di normalizzazione delle relazioni bilaterali, una sorta di vera e propria pace, di collaborazione diplomatica, stop alle armi, dal 28 dicembre scorso, proprio con la mediazione di Lavrov e della federazione russa di Putin. Evvieni Prigogin, fondatore della Wagner, se la prende con Macron. Strapperemo i denti al presidente francese, dice in un video di ieri su Telegram, perché il Parlamento francese, con l'appoggio quindi, spinta dal partito di Macron, ha dichiarato ufficialmente la Wagner, la milizia privata del Cremlino, di mercenari, una gruppo terrorista. E come risponde, per esempio, una sulle tante frasi dette da Prigogin, che in Centro-Africa, o abbiamo, i nostri ragazzi come Wagner, salvato moltissime persone, proprio dai soldati francesi, dalle loro crudeltà. Ringrazio per il contributo mensile al canale Roberto. Andiamo avanti, Index Giornale d'opposizione a Orban Ungherese. Un tentativo di attentato terroristico al oleodotto dell'amicizia Druzhba, in territorio russo, poi va verso l'Ucraina, infine arriva in Slovacchia, Ungheria, eccetera. Olio, quindi petrolio russo, uralico. L'attentato nella zona oblast di Bryansk, a riferirlo il portavoce dell'azienda del colosso energetico russo Transneft, alla TAS, colpiti tre cisterne, depositi di carburante, serbatoi di carburante vuoti, zero feriti, attacco, probabilmente un nuovo attacco, già ce ne sono stati in passato, tramite droni e esplosivo plastico, materiale plastico. In risposta all'Ungheria che cosa fa? Come dichiarato anche dal ministro degli esteri ungheresi, Siarto Petar in visita a Belgrado e la firma di un nuovo progetto. Vuole costruire l'Ungheria insieme alla Serbia di Vucic, un nuovo oleodotto per portare petrolio, soprattutto russo, ma anche a zero, tramite la Turchia e il Mar Nero in Ungheria, in Serbia, in Unione Europea, bypassando quindi, circunnavigando, come si può dire, evitando l'Ucraina, la stessa Ucraina, che molto volentieri, anche per bocca di diversi politici, vorrebbe far sparire, quando non converrà più economicamente, l'oleodotto Druzba, che dalla Russia, dagli Urali, porta via terra il petrolio in Unione Europea. Quindi la Molle, la Transnafta, quindi aziende ungheresi, energetiche sempre, e Serba, hanno un piano per costruire questo nuovo tubo lungo più di 100 chilometri. L'Ungheria piangerà quando la Russia di Putin fallirà. Chi è che parla? Un politologo ucraino. Orban ha rilasciato venerdì scorso una solita intervista alla radio pubblica ungherese Koshut Radio, in cui ha detto non è credibile il fatto che qualcuno possa sconfiggere una potenza nucleare come la Russia odierna. Il politologo di Kiev, Mikola Davidiuk, a 24tv.ua, ha reagito a Orban. Sembra, dice, che a Oxford Orban, nei decenni passati, abbia lasciato molte ore di studio. Non abbia ben capito la situazione mondiale. Fa la lezione morale al primo ministro ungherese. Putin aspetta solo la sua sconfitta, secondo l'Ucraina. L'Ungheria e Orban piangeranno quando la Russia, la federazione russa, fallirà. Il gas in Ungheria costerà moltissimo. La corruzione politica cesserà di esistere. In Ungheria l'Ucraina, che parla di corruzione, all'Ungheria. E poi, che cosa fa l'Europa? Orban continuerà a vivere, stando in Unione Europea, non fa altro che umiliarla, proprio con la sua presenza fisica. Queste sono solo delle frasi pronunciate da questo politologo, che per esempio fa degli errori storici. Perché? Dice che l'Unione Sovietica è stata abbattuta come potenza nucleare dalla Finlandia, nella guerra a cavallo tra gli anni 30 e 40, quando l'Unione Sovietica di Stalin ancora non aveva testate atomiche. Quindi anche lui fa degli errori storici enormi, mentre vuole dimostrare che delle potenze nucleari possono essere sconfitte da nazioni, il Davide contro il Golia, più o meno. Quindi l'Ucraina batterebbe con l'aiuto occidentale la federazione russa, al contrario di quello che dicono tantissimi esperti militari qui in Ungheri, anche storici militari come Shomkutibalint. Intanto, nello stato di diritto europeo dell'Ucraina di Zelensky, senza una motivazione ufficiale, arriva una lettera. È stato allontanato per la seconda volta il direttore scolastico di una scuola media ungherese in Transcarpazia, in Ucraina, Shinkistvan Stefano, nella scuola Rakoczy Ferenc. E per chiudere, la Polonia che cosa fa? È veramente questo incredibile. Cambia il nome ufficiale nelle cartine geografiche a Kaliningrad, l'esclave russa sul Baltico, confinante con la Polonia. C'è anche la nuova rete metallica muro in costruzione. Medvedev risponde su Twitter in inglese. Che cosa fa il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo? Dice che allora la Polonia potremmo chiamarla Gran Ducato Polacco o Regno Polacco, che farebbe parte quindi dell'impero russo. E poi possiamo chiamare Varsavia, no, Cracovia. Allora Cracovia diventa Cracau. Questi sono nomi, una lista bella lunga, e alla fine termina il messaggio in russo con una emoji, una faccetta sorridente. Dice che questi polacchi russofobi vogliono addirittura riscrivere la storia. Grazie per aver visto questo video al prossimo tra Italia e Modena Rorsal. Grazie per aver guardato il video.